ecco ci troviamo alla copp a santa maria capo a vedere e questi sono i nuovi bidoni installati per la raccolta degli indumenti sono stati concepiti per essere per non essere più oggetto di queste ecco qua quindi si infila quella vedete questa mazza che sta attaccata al bidone vediamo un po l'operazione da capo prendiamo insegna ecco infila dentro poi dopo così a occhio quindi non si infila più lui dentro ma questa volta solamente la è diventato sicuro perché non ci va più l'essere umano dentro ma solamente una mazza ok